Sì, un'indagine che è partita dalla denuncia delle vittime fatta nel febbraio del 2018. Sono due imprenditori edili che hanno deciso di non sottostare alla richiesta del pizzo per questo lavoro, questo appalto pubblico che avevano qui nel comune di Vibbo Alenzia in relazione al ripristino delle condutture fognarie. L'indagine è già conclusa oppure no? No, si parla di altre persone per le quali era stata fatta questa estorsione. L'indagine per noi allo Stato è conclusa per questi fatti. Le modalità mafiose fanno capire che tutto questo sistema è incardinato sulla criminalità organizzata. Sì, è un sistema che sembra all'evidenza del procedimento ben chiaro, un sistema per il quale i due soggetti che non sono originali del comune di Vibbo Alenzia ma sono originali del comune di Arena, proprio per venire a fare questo lavoro qui su Vibbo Alenzia avrebbero dovuto avere un'autorizzazione e quindi avrebbero dovuto dare questa somma di denaro a qualcuno. Quindi è un sistema che allo Stato, all'evidenza degli atti, sembra collaudato. Si... Se... 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 Grazie.